Grazie a tutti. Grazie, mi sentite? Forte e chiaro. Perfetto. Allora, no, io faccio una domanda generica, poi il moderatore potrà valutare, insomma, chi potrà rispondermi. In realtà ho due domande, una che riguarda proprio la manutenzione e un'altra forse più tecnica che riguarda la scabrezza. Allora, la prima domanda è questa. Rispetto a quanto si fa attualmente con il modo prevalente, ecco, con fiumi e canali regimati secondo i canoni della classica ingegneria idraulica, Allora, cosa cambia? Come cambia la manutenzione ordinaria e straordinaria nei corsi d'acqua che sono stati oggetto di riqualificazione fluviale, quindi in cui si è operato con interventi di ingegneria naturalistica? E questa è la prima. La seconda, invece, è questa. Dunque, per gli interventi di ingegneria naturalistica in sede progettuale è possibile definire, quindi sulla base dell'evoluzione temporale della vegetazione, un coefficiente di scabrezza futuro, quindi di proiezione, che sia sufficientemente attendibile per poter modellare correttamente la nuova impronta del flusso idrico? Quindi questo con riguardo a tutti gli aspetti della pianificazione di assetto idrogeologico. Grazie. Le pongo anche in francese, se vuoi, Andrea, così si può anche Nicola volerlo. Sì, sì, fai benissimo, va bene. Quindi, il y a due question. La prima è lia al mantenimento in caso di restaurazione di riviare. Quindi, quel tipo di mantenimento è prevato normalmente nelle operazioni di restaurazione e in caso dove il genio vegetale è utilizzato? La seconda è lì, c'è lì, c'è lì, c'è lì dove c'è lì di intervenzione di genio vegetale. Sì, c'è lì, c'è la possibilità di fare una previsione di coefficienti di riguosità che può permettere di fare dei modelli, soprattutto di crue. Allora, Andrea, direi, non so se per la parte di manutenzione e come cambia la manutenzione su interventi di riqualificazione, se anche Marco Monaci, visto che aveva parlato delle linee guida sull'Emilia Romagna, o tu volete fare una risposta, io darei... Io posso farla sia dal punto di vista, in generale, l'idea, come dicevano, sia Nicolà che... Ecco, e poi sulla scabrezza, non so, ci sono alcuni ingegneri, forse è più a loro, compreso tu, ma insomma, e magari anche lo stesso Nicolà, se se la... insomma, chi vuole intervenire, ecco, mi rivolgo un po' a voi. Anche Gianluigi, prego... La manutenzione, il mio commento al volo, è che più si lascia spazio della dinamica naturale del corso d'acqua e meno manutenzione è necessaria. Quindi quando si parlava di livello di ambizione della riqualificazione, più è, diciamo, ambiziosa e meno poi serve un intervento di lungo periodo. Rispetto alla manutenzione degli ingegneri naturalisti, che lascio, insomma, ad altri commentari, anche se credo che la risposta sia analoga. Direi che chiunque dei relatori, se vuole rispondere o dare una breve risposta, può semplicemente accendere il microfono e parlare. Si. André? Oui, vas-y. André, tu vuoi che j'ai répondu aux questions? Oui, vas-y. Sur la première question, déjà, on considère que les végétaux, comment dire, s'installent de manière pérenne après trois années, trois saisons végétatives. C'est-à-dire ce qui s'est développé vraiment après trois saisons, en général, c'est ensuite en pleine croissance et c'est pérenne. Donc, ce qui est souvent important, c'est que l'entretien, puisque c'est ça le maintien dont tu parles, l'entretien, pour pérenniser la végétation, c'est dans les trois années à suivre. Et ensuite, ce que je préfère en ce qui me concerne, c'est qu'on définisse les contraintes, les objectifs et qu'on choisisse la végétation en fonction des usages. Si, par exemple, comment dire, il est vraiment souhaité d'avoir un frein hydraulique, on va végétaliser de façon efficace avec des lignes souples, des espèces capables de plier au courant qui ne monteront pas très, très haut, des buissons, des salicacées. Si, comment dire, on a vraiment des frayeurs quant à l'impact d'un point de vue hydraulique, on va plutôt travailler qu'avec des aires bassées, mais auquel cas, il va falloir nous libérer de l'espace. La risposta di Nicolai è che, tendenzialmente, loro considerano che dopo tre stagioni vegetative la végétation non ha più bisogno di supporto per raggiungere una crescita, e quindi l'intervento, diciamo, post-projetto è concluso. Loro, tendenzialmente, per quanto riguarda la gestione di più lungo periodo, quindi dopo le piante, diciamo, sono autonome, preferiscono definire fin dall'inizio la tipologia di vegetazione che è più coerente con i vincoli e con gli usi del suolo. Quindi, se c'è un vincolo legato ai livelli in piena, tendono a piantare solo vegetazione che sia flessibile e quindi che in piena detteremmene un aumento del livello molto limitato, o solo specie erbacee o arbustive. Quindi, per finire, possiamo modellare con i coefficienti di rugosità molto diversi in tempo, ma è possibile, ma è sempre sempre di la teoria. L'idéal, ancora una volta, è di adattare questi choix di vegetalizzazione ai contrainti e obiettivi che l'on si fixe. E, effettivamente, a un momento, potrebbe che bisogna più liberare la parte, se vogliono definire le bordure di cours d'eau. Potremmo, potrebbe essere solo su una vegetazione rase, se non c'è un'impasto di l'impasto della vegetazione in periodo di inondazione. Ma, inoltre, molto francamente, e direi par esperienza, l'exposizione alle inondazioni, non è, francamente, che molto, molto raramente liata alla vegetazione che encombra il gabarit idraulico. E' partecipato, ma è un fattore minore par rapporto a tutti gli altri fattori. Nicola dice che è possibile provare a modellizzare il coefficiente di rugosità, di scabrezza. E su questo poi chiedo a Federico Preti di aggiungere qualche dettaglio su quello che stanno facendo, che sicuramente è molto interessante. però dice che spesso il ruolo della vegetazione è sovrastimato in termini di incremento della pericolosità del rischio di piena e che quando si hanno dubbi forse è più facile lasciare un po' più di spazio dove è disponibile che non cercare di stimare con precisione l'effetto della vegetazione. Ma, appunto, magari Federico Preti su questo ha delle cose più puntuali da aggiungere, se è ancora connesso. Anche il professor Asaro, se ci fosse, se vuole anche aggiunger lui e dopo Federico. Vai Federico. Sì, grazie. Brevemente, allora, avevo detto anche nel saluto iniziale, sì che le conoscenze sono cresciute, ma quello che interessa di più è che siano cresciute in maniera che siano spendibili a livello applicativo, progettuale. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo testato un po' quello che in letteratura esisteva e cercato di adattarlo alla possibilità di stimare bene l'effetto sulla resistenza al moto. In grande sintesi, per quanto riguarda le piante, diciamo, arboree, quelle che avrebbero un comportamento rigido, la spaziatura, la distanza media fra le piante rispetto al diametro, se è inferiore a 10 può creare un problema di rialzo idrico, se è superiore a 10 potrebbe essere questo trascurabile. Analogamente, anzi forse prioritariamente rispetto a questo, c'è il discorso del rapporto di forma dell'alveo, cioè la larghezza dell'alveo rispetto alla profondità, ad esempio per la portata trentennale. Anche lì, se il rapporto B su H è maggiore di 10, l'effetto della scabrezza dovuta alle piante non è così rilevante. Poi sui canali di bonifica c'è tutta una questione relativamente anche al canneto e soprattutto al fatto di fare una manutenzione più che altro nella zona centrale dell'alveo è più che sufficiente rispetto anche agli sfarci sulle sponde. Ogni corso d'acqua comunque va studiato a sé e quello che si può dire per tutti quanti è che effettivamente se sono flessibili le piante, la scabrezza addirittura non aumenta ma può anche diminuire nel caso che si piegano le piante e poi soprattutto quello che accennavo è l'effetto a valle, cioè se questa cosa della resistenza al moto può creare un problema in zone urbanizzate, se a monte invece viene lasciata fare ha un effetto sia di laminazione che di ritardo dell'onda di piena quindi comunque una diminuzione di rischio a valle, anche su quello abbiamo fatto dei conti ed è così insomma. Però se siete interessati, chi è interessato mi può scrivere una mail a quella istituzionale federico.preti, chioccio.unifi.it gli posso mandare materiale o qualche anche commento ulteriore perché non vorrei rubare tempo. Grazie comunque. Grazie. Allora grazie anche a Federico. Io adesso non vedo altre domande. Sì c'era una domanda di Paolo Varese e anche questa secondo me è di interesse ampio. Quali sono i vincoli diciamo entro i quali può essere usata l'ingegneria naturalistica in contesti di elevata dinamica idromorfologica? Lo faccio anche in questione francese. Che sono le limite di utilizzazione dell'ingegneria vegetale dalle contexti di dinamica idromorfologica piuttosto elevata. Quindi c'è anche una linea guida che è stata prodotta in un progetto franco-svizzero proprio sull'utilizzo dell'ingegneria naturalistica in un contesto di corsi d'acqua di montagna che possiamo poi segnalare. Se qualcuno vuole rispondere su questo. Si io posso rispondere, in realtà, il faut quand même rappeler, in tutto caso a ma connaissance, che la vegetazione si sviluppa in bordure e nei di tutti i corsi d'acqua. A parte delle situazioni apicale o delle situazioni climatiche eccezionali, la vegetazione è capabile di se sviluppo di tutto. Quindi il n'y a aucune ragione che non ne puissano riprodurare questo modello naturale. In realtà, su dei corsi d'acqua extremamente dinamiche, questa vegetazione sarà potente eclipsa, perché il suffi, come l'aveva Zubi hier, di una crue excepcionale per rimanere il sito, ma la vegetazione è capabile di s'installare tutto. Il suffi di vedere il lavoro che è stato fatto con Génie Alpe, il guide che tu conosco, è capabile, anche in delle condizioni torrentie, di installare la vegetazione. Quindi sarà con delle tecniche mixe, anche in utilizzando dei blocchi, delle strutture rocheuse. Ma, sinceramente, se si l'on donne un po' di libertà, l'on può essere all'innovabile. E ancora una volta, io non ne conosco un tour d'eau dove la vegetazione non è capabile d'essere. Grazie. Nicola dice appunto che nei corsi d'acqua naturali, laddove c'è uno sviluppo naturale di vegetazione, quindi sotto la quota limite dove le condizioni climatiche consentono un sviluppo naturale di vegetazione, non c'è nessun motivo per cui non possiamo cercare di riprodurre questi modelli naturali in interventi di ingegneria naturalistica. chiaro che, laddove la dinamica idromorfologica è molto forte, anche il modello naturale, fra virgolette, prevede un ruolo forte sia dei sedimenti grossolani che della vegetazione e quindi probabilmente utilizzeremo delle tecniche miste, se vogliamo realizzare delle difese, ad esempio di sponda, quindi con massi e vegetazione. ma se ci diamo un po' di libertà sicuramente è possibile riprodurre questi modelli naturali efficacemente, anche lui ricordava appunto queste linee guida con molti esempi di applicazione di ingegneria naturalistica anche in corsi d'acqua di montagna, forte pendenza e forte dinamica e queste le renderemo disponibili insieme alle slide e alla registrazione di oggi. se qualcun altro vuole commentare su questo... va bene, se io non vedo, adesso sto guardando la chat, non vedo altre cose, ci sono altre... Pino Ruggeri vorrebbe intervenire. Benissimo, allora Pino Ruggeri, prego. Mi sentite? Sì. Ok, niente, io volevo soltanto intervenire così come ex CIRF ed AIPIN. quindi sono contentissimo di questo incontro proprio perché sono due filoni che secondo me anche rispetto agli interventi che si sono sentiti evidenziano che hanno un contenuto molto molto forte in comune. colgo negli interventi fatti sia da Goltà che da Monaci e poi da Oikos che c'è ancora un colgo senza essere solamente polemico per carità ma appunto per andare oltre una visione dell'ingegnere naturalistica ancora centrata sulle tecniche, sull'applicazione delle tecniche e non sulla strategia che sottende l'utilizzo delle tecniche. Nell'intervento di Paolo che poi è stato limitato molto perché c'è stata una difficoltà fra le parole che Paolo diceva e le slide che venivano nel momento proiettate, quindi forse è stato colto poco, c'è una slide di Paolo in cui dice che i limiti sono i soldi, negli interventi i soldi e lo spazio. E quindi nella visione di ingegneria naturalistica proprio come strategia ed è stato ripetuto più volte, cioè uno l'opposizione è zero, cioè se lo stato, se il fiume sta bene non bisogna intervenire, due c'è il discorso dello spazio appunto che è un vincolo, per cui questa visione dualistica o spazio o ingegneria naturalistica, cioè o dare spazio al fiume o intervenire in maniera rigida con l'ingegneria naturalistica non è un approccio corretto dell'ingegneria naturalistica, cioè non rientra nella strategia dell'ingegneria naturalistica. Dove non c'è lo spazio, invece di interventi in grigio, come detti, eccetera, proponiamo interventi di ingegneria naturalistica, perché c'è un intervento appunto tecnico di consolidamento, un intervento di vegetazione, l'importanza della vegetazione, l'intervento di tane per pesci, eccetera, 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 quindi un approccio che si avvicina di più all'ambiente fluviale naturale. Per cui io penso che va superata questa visione dell'ingegneria naturalistica vista soltanto come un insieme di tecniche da applicare. Nel convegno di ingegneria naturalistica che è scaricabile in PDF, se ricordo bene, nella Regione Lazio, tutto ciò che è riportato nelle relazioni di Andrea e Marco, di Gugoltà e Monaci, sta lì. C'è tutto il discorso della connessione verticale, longitudinale, trasversale e temporale, c'è tutto il discorso dell'importanza della fascia riparia, c'è il discorso dell'importanza della componente idromorfologica, per cui maggiore è la diversità morfologica, maggiore è la diversità biologica. Cioè io penso che abbiamo un terreno comune veramente ricchissimo, molto ricco, anzi proiettato verso il futuro, come ha detto Gianluigi sul Nature Based Solution, sui servizi ecosistemici, quindi allarghiamo sempre sempre di più i nostri approcci. E quindi mi auguro follemente, veramente ma con consentimento, dico questa cosa, che si soprano ancora delle visioni un po' parziali che sono state storiche. Io ricordo un intervento, se ricordo bene, nel 2000 di Pino Sansoni, che è stato uno dei soci fondatori del CIRF, a un congresso del CISBA in cui parlava di cosmesi ambientale, criticando l'ingegnere naturalistica, ma come ha riconosciuto anche Paolo nel suo intervento, Paolo Connellini, che molte volte sono stati fatti interventi molto duri sui corsi d'acqua, poi ammantati come cosmesi ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica. Ma oggi l'ingegnere naturalistica non si propone più assolutamente. Cioè l'ingegnere naturalistica oggi ha una sua visione, una sua strategia, come ha detto anche Paolo nel suo intervento, Paolo Sangalli, all'inizio. Tutti gli interventi hanno parlato di strategie, di visioni. Per cui niente, voglio soltanto dire questo, perché veramente esprimo la mia contentezza di questo incontro, che io personalmente, essendo uno dei primi soci CIRF in Abruzzo, e storicamente sono da là più dagli anni 90, sono contento che ci sia stato questo incontro, anche in un'ottica appunto, come ha detto prima la Presidente del CIRF, in un'ottica di contare, perché è vero che c'è una politica che purtroppo ancora, come è stato anche ripetuto da Andrea Capito, governatori, funzionari all'origine, cioè mancano spesso gli interlocutori. E quindi creare un maggior forza, maggior sinergia, maggiore anche divisione unitaria, eccetera, penso che sia strategico e fondamentale per noi tutti. Mi chiudo con delle relazioni che sono davvero bellissime e apprezzate tutte. Grazie. Per forzare il messaggio, insomma, credo che la giornata di oggi serva proprio per sancire un po' questa lettura molto più omogenea di quanto non sia stato negli anni e decenni scorsi. Chiaramente nelle nostre presentazioni intendevamo generalistiche, nel senso di tecniche di proprio, la strategia in generale, quello che i francesi chiamano «genie vegetale», che proprio sono le tecniche. C'era una domanda, Marco vuoi dirlo tu? C'era una domanda su Matteo, vuoi dirla tu? Allora, c'era Matteo che diceva che non siamo pronti e citava il caso del fiume Olona, gestito dall'autorità di bacino distrittuale del fiume Po, dove mi sono sembrati molto chiusi. Allora, qui effettivamente ci sono un po' di… in realtà le autorità di bacino, se posso dare la mia interpretazione, poi dopo chiunque può intervenire. Purtroppo in questi anni hanno un po' perso quella funzione che gli era stata data ancora con la legge 183 e comunque il ruolo fondamentale, soprattutto in quest'ultimo decennio più o meno, di interventi sui corsi d'acqua e quello delle regioni. Le regioni sono state dal 2009, i governatori regionali sono stati nominati come commissari anche del distrittuale, quindi non dico che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, ma insomma hanno sicuramente molto più responsabilità, nel bene o nel male, di quello che è l'autorità di bacino. Noi in molti documenti abbiamo da molti anni detto che l'autorità di bacino dovrebbe recuperare un ruolo di coordinamento e di programmazione, che poi l'autorità di bacino vuol dire stato e regioni, non è che è un qualcosa di particolare, cioè le regioni fanno parte dell'autorità di bacino e delle autorità di distretto, come vengono chiamate adesso, come sono adesso. Per cui effettivamente anche sul fiume Lona lì era un progetto della regione approvato, ma insomma stiamo scontando un pochino anche questa perdita di visione di bacino idrografico dovuta anche secondo me a una delegittimazione che c'è stata in questi 10-15 anni delle autorità di bacino. Io mi ricordo che, per esempio, quando c'è stata l'alluvione del Po negli anni 90, ci fu il piano fasce fluviali che fu coordinato dall'autorità di bacino del Po e fu un passo notevole da un punto di vista anche di concezione progettuale. Ci fu il piano straccio 45 con l'individuazione di interventi prioritari sul fiume coordinato dall'autorità di bacino. E poi per un po' di anni ci furono questi schemi previsionali e pregrammatici dove le autorità di bacino coordinavano, era nella sede dell'autorità di bacino che venivano decisi gli interventi, buoni o cattivi, però insomma si cercava di mantenere quel tipo di cose. Poi per tutta una serie di normative questa cosa è un po' persa e le regioni si sono riprese in mano la programmazione e la programmazione adesso è di fatto un elenco di interventi molto spesso scordinati tra regioni, cioè noi abbiamo molti fiumi che sono tra più regioni e che però le regioni non si parlano su questo. Rispetto al contesto Nord Milano però vorrei, c'era qualche commento ma la sottolineo anch'io, forse uno dei pochi in cui ci sono delle iniziative di riqualificazione fluviale, anche se il contesto chiaramente ha dei vincoli notevolissimi, quindi nell'ambito dei processi di contratto di fiume nell'area Nord Milano, sono situazioni molto difficili ma dove qualche tentativo si sta facendo. C'è il progetto sul Parco dell'Ura che mi sembra tutto sommato di rilievo e poi però siamo in una situazione dove effettivamente l'Olorna negli ultimi 50 anni, se uno guarda le mappe prima e adesso è stato quasi completamente urbanizzato, se non in parte anche tombato, quindi è veramente una situazione di una complessità micidiale. Se c'era qualche altro... ...e più su altri contesti che sarebbero più facili ma su cui ancora si vede molto poco, ecco. Scusate, Gianluigi voleva fare un intervento. Tirrera. Io volevo soltanto partire da un'osservazione, un po' per riprendere il ragionamento di Lino Ruggeri che condivido pienamente. Gli interventi che abbiamo esposto hanno mostrato pochissime tecniche. Ciò significa fondamentalmente che l'ingegneria naturalistica non è tecnica, è molto più che tecnica. Abbiamo parlato di strategie, abbiamo parlato di ragionamenti in ambito di bacino. Allora, secondo me, occorrerebbe riflettere molto sul concetto di ingegneria naturalistica perché quella su cui ci stiamo incontrando non è quella di 30 anni fa che rigidamente guardava a concetti di erosione, stabilizzazione, consolidamento, eccetera, eccetera, e molto di più. A me è piaciuta molto e mi rivedo moltissimo nella definizione di Paola Sangalli e che vorrei che venisse citato un po' a conclusione di questo convegno. Ingegneria naturalistica ha il termine ingegneria che comprende le tecniche e la strategia. Dopo naturalistico comprende tutta una serie di attività legate al monitoraggio della fauna che dobbiamo raggiungere. Quando io mi approccio a qualsiasi progetto, la prima cosa è un'analisi di contesto. Cioè, il progetto di ingegneria naturalistica si fa, per prima cosa, con i piedi sul campo, guardandosi intorno e vedendo che cosa c'è. E soprattutto, tornando a Giuliano Sauli, con il livello minimo di energia. Cioè, fondamentalmente, l'ingegneria naturalistica è quasi esclusivamente una scusa per riportare naturalità. Quindi, guardiamo principalmente alle finalità piuttosto che al rigore delle tecniche. Quella è un'altra cosa. Su questo stanno lavorando molti. C'è pure Fabio Palmeri, in particolare, che riguarda il technical report, cioè il rigore delle tecniche. Ma il rigore delle tecniche è una visione che è altra. Cioè, l'ingegneria naturalistica è come se mettesse assieme l'ambito di come guarda le cose un pianificatore rispetto ad un geometra. Sono due cose che devono assolutamente convergere. Però, Gianluigi, mi sembra, giustamente quello che dici, che è un po' l'obiettivo di questo primo incontro. Mi sembra che sia stato molto interessante anche proprio perché ha fatto vedere esperienze dove abbiamo anche ragionato sugli spazi che ci sono, no? E poi sta molto nella responsabilità, nella capacità, al di là delle definizioni, dei progettisti, riuscire ad adattare e a comprendere la vocazione di un territorio e di uno spazio. Perché poi vedevo gli interventi di Marco Nembrini in alcuni contesti dove non c'hai spazio, non c'hai niente, devi inventarti qualche cosa. Altra cosa è se tu sei in piena campagna puoi recuperare quello che poteva essere uno spazio naturale del fiume e quindi a quel punto anche il processo, cioè tu semplicemente in qualche modo, tra virgolette, semplicemente cerchi di riattivare dei processi. Poi tanto ci pensa il fiume, si ha lo spazio e si ha la capacità. Quindi secondo me l'interesse, l'importanza di questo momento e anche il fatto che sono veramente contento di aver partecipato e in qualche modo collaborato a questo intervento, a questo evento, è proprio questo di rendersi conto poi di tutto quello che è stato fatto intanto. Perché noi quando abbiamo iniziato tanti anni fa, io mi ricordo i primi convegni, andavamo a cercare l'esperienza in mezzo mondo e io mi ricordo che forse uno dei primi ragionamenti che avevamo fatto insieme era sì, ma io in Sicilia che posso mica usare il sale? Cioè io mi ricordo una delle prime cose che tu mi hai detto, io non ce l'ho detto. Non mi attacca neanche a quello che hai detto adesso, forse anche a seguito di un'esperienza diretta, però ti era già ben chiaro prima, insomma. Quindi adesso stiamo parlando di esperienze, di progetti anche molto articolati, molto diversi e quindi possiamo, tra virgolette, copiare, riprendere, recuperare quegli approcci che poi sono venuti fuori anche con delle parole chiave, dei principi. Quello che dicevo prima che mi ha detto, se non sbaglio, la dottoressa Sangali era l'opzione zero. Comunque era una cosa che in genere non viene utilizzata, ma è fondamentale qualsiasi sia l'approccio che stiamo portando avanti. Quindi direi che questo era un po' il senso della giornata e anche per cercare, io ribadisco, al di là di quelle che sono la capacità tecnica, progettuale eccetera, noi adesso qui ci dobbiamo mettere insieme per cercare di fare una lobby perché vengano impiegati dei soldi per fare quegli interventi e quelle cose che servono. Non abbiamo più tempo, non possiamo più consentire che si continuino a sfasciare i fiumi perché li stanno sfasciando. Noi abbiamo interventi, che ne so, su fiumi in zone dove ci sono linee guida stupende. La Savena in Emilia Romagna ha tagliato 12 km di bosco ripariale e il danno, il rischio è aumentato, l'abbiamo documentato, si sono portati via la legna come molto spesso quando dragano lungo i fiumi e si portano via quello che gli pare e tra l'altro sono pure dei fuori sacco, non sono nemmeno dentro i piani di Icos. Quindi dobbiamo assolutamente unire le forze perché anche semplicemente la gente che c'è qua, siamo tanti, abbiamo contattato, perché in qualche modo adesso ci siano quelle scelte che ci servono per poi cambiare la cosa. Io mi sono un po' stufato di vedere i progetti di rinaturazione che sono dei life, ci dobbiamo fare un mazzo come pochi mentre uno per fare un muro di cemento, adesso dico una scheda di rendis e la spedisce insomma, cioè non è più possibile questo. Dobbiamo cercare di portarci tra virgolette a casa qualche cosa e anche un cambiamento proprio di concetto. È quello che chiediamo da tanti anni ma adesso non possiamo più permetterci di rinviarlo ulteriormente. Adesso se ci sono altre, scusatemi, adesso io faccio quello del WWF che insomma non dovrei, ma vi chiedo scusa. Se ci sono altre domande, perché io poi chiedevo magari a Laura Leone, a Federico Preti... Andrea dico, sono Giuseppe D'Overo. Dico io una cosa anche perché mi riallaccio a quello che hai detto tu rispetto alla necessità di strategie articolate e anche al fatto di superare un po' l'estemporaneità di alcune iniziative progettuali come i Life. Noi in realtà, io adesso qui parlo come CIRF, ma a nome diciamo di un gruppo articolato che sta lavorando a Life Green Change, che è il coordinamento della provincia di Latina, con un po' di partner, tra cui Uspace, Poliedra, CIRF, appunto Confagricoltura Latina. Tra l'altro spero che sia qualcuno di Confagricoltura che sta seguendo la giornata e Miema per quanto riguarda Malta. Noi abbiamo voluto organizzare questo incontro nell'ambito di Green Change proprio perché il progetto ha, come ha detto Laura Leone in apertura, l'obiettivo, come hai detto anche tu, di incrementare il livello di biodiversità delle aree agricole, quindi intervenendo anche sull'ereticolo idrografico. Lo facciamo nell'Agro Pontino che è uno dei territori simbolo della bonifica in Italia ed è un territorio che ha ancora un'ereticolo idrografico estremamente complesso e articolato con tanti canali di bonifica di dimensioni diverse e anche qualche corpo idrico naturale che non gode di buonissima salute. Quindi dentro il progetto noi facciamo degli interventi dimostrativi con ambizioni diverse ma che riassumono un po' di esempi che sono stati fatti vedere oggi perché abbiamo un corso d'acqua su cui c'è più spazio e quindi proviamo a fare un intervento di miglioramento naturalistico in senso stretto cercando di aumentare la funzionalità e la connettività complessiva delle campagne dell'Agro Pontino ma abbiamo, e a questo mi riferisco rispetto al tuo discorso, tante situazioni in cui noi siamo costretti come spazi perché siamo in un'area agricola ma siamo in un'area agricola intensamente sfruttata perché appunto l'Agro Pontino è un'area di grande produzione. Quindi in questi casi abbiamo un po' dei limiti di intervento e applichiamo delle tecniche degli strumenti che in un qualche modo provano ad aumentare un po' la qualità anche ecologica di canali che per il resto hanno, diciamo, scarsa variabilità sia morfologica che ecologica. Dico questo perché secondo me l'applicazione di strategie effettivamente efficaci adesso hanno inevitabilmente l'altro aspetto di cui si è parlato poco è quello del coinvolgimento dei privati. Cioè noi quello che stiamo facendo dentro il progetto è provare a coinvolgere proprio gli agricoltori nella gestione e manutenzione di infrastrutture verdi e anche di questi interventi di miglioramento ambientale. proprio perché appunto senza questo passaggio si rimane, come dicevi tu, nell'ambito di un progetto dimostrativo che magari scrive delle fantastiche linee guida che però rimangono totalmente inapplicate. perché questo, diciamo, è l'altro problema. Noi credo che ci ispireremo anche come CIRFA ad alcuni degli esempi che abbiamo visto proprio perché dobbiamo accompagnare il consorzio di bonifica dell'Agro Pontino che è uno dei consorsi di bonifica più grandi d'Italia nella scrittura e linee guida per una gestione del reticolo ideografico un poco più innovativo, un poco più moderna. lo facciamo insieme ad ambi, quindi anche con l'obiettivo di coinvolgere altri consorsi e l'Italia centro-meridionale e però appunto affinché questa cosa non finisca con la summer school e non finisca con questo seminario c'è bisogno di coinvolgere secondo me i proprietari terrieri, le imprese agricole nella comprensione che è un territorio migliore, un territorio più bello, un territorio ecologicamente funziona meglio, anche un territorio multifunzionale con dei livelli di produttività diversi. quindi in chiusura se c'è qualche esempio anche da parte di Nembrini visto che lui ha fatto vedere i territori di pianura di tecniche o meglio diciamo di approcci di coinvolgimento anche poi nella manutenzione e gestione degli interventi da parte di operatori privati sarei lieto di sentirte. Va bene, adesso sono le 13.20, quindi parecchia gente si sta giustamente anche per l'orario anche ringraziando, vedo che ci sono molti ringraziamenti quindi vuol dire che tutto sommato la mattinata è stata molto utile. io chiederei sempre che Marco Nembrino vuole fare però un brevissimo intervento perché se no veramente però magari può essere un contributo che mettiamo poi a disposizione anche con le slide e con la registrazione perché poi ricordiamo che ci saranno anche queste però io volevo chiedere a Laura Leone e a Federico Preddi quindi se volevano chiudere visto che la giornata è stata promossa da Aipin e da CIRF con un breve chiusura insomma dite voi. Laura, prego. Sì, ciao eccomi Federico, parto io come prima, poi tu chiudi tutto il resto. Ci mancherebbe altro. Grazie. Io mi sono segnata varie cose durante questa giornata, vari messaggi. Il primo fra tutti è quello della dottoressa Sangalli, fare tanto quanto necessario ma il meno possibile che mi sembra un messaggio molto importante e molto centrato all'interno di questa giornata. Il secondo è quello di un messaggio, un chat che è stato inserito da Giampiero Nicoli che la distanza tra il cittadino e il territorio è alla base dell'incuria. Io all'inizio del mio ragionamento ho parlato del fatto che la politica non è pronta e probabilmente non è pronta perché non è pronta la popolazione, chiaramente la politica è lo specchio di quella che è la cittadinanza e la popolazione. In quest'ottica ho trovato importanti gli spunti che sono stati dati anche da Pirrera ma anche da Susanna Bacchelli nella chat, ovvero il fatto che c'è la necessità della partecipazione sociale necessaria per portare avanti una politica e per portare avanti un cambio di strategia e qui mi accodo a quanto dice Pirrera, un cambio di strategia proprio a livello nazionale. Quindi l'inserimento, e torno indietro ancora al mio discorso iniziale, di un piano nazionale di rinaturalizzazione del territorio deve darci proprio questo, deve fornirci una strategia per poter portare avanti le idee che sono emerse oggi, che sono assolutamente in linea e assolutamente sinergica. AIPIN e CIRF devono assolutamente collaborare e interfacciarsi sempre più spesso su questi tavoli, in queste piattaforme, ma non solo, in modo da poter portare avanti il messaggio che mi sembra univoco. Più spazio ai fiumi e laddove non è possibile più spazio ai fiumi rinaturalizzazione utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica. Grazie a tutti per averci ascoltato e vi lascio la parola a Federico. Grazie Laura, grazie anche Andrea. Io mi ero segnato un paio di cose che qualcuno diceva, non c'è sensibilità anche da parte dei decisori, i consorsi bonifica sono indietro. Ecco, io voglio essere un po' ottimista, mi sembra che comunque dei passi avanti, come ho già detto, sono stati fatti e quindi diamo importanza anche a questo lavoro di formazione e divulgazione di quello che facciamo. Già questo esempio di aver avuto, mi sembra fino a 174, ho visto partecipanti, credo che sia un segno di interesse e su cui bisogna lavorare anche il materiale. Molti hanno chiesto di poterlo poi avere anche le registrazioni. L'altra cosa che, ritorno da dove ero partito, appunto forse dobbiamo cercare di far capire all'opinione pubblica che noi non ci occupiamo delle specie rare oppure di questioni solo ecologiche e paesaggistiche seppur importantissime, ma che noi vogliamo dare un contributo con le nostre due associazioni a quella che è l'emergenza nazionale, quella del rischio idrogeologico e di doverci adattare al climate change. Secondo me tutto quello che abbiamo visto va spiegato anche in questi termini, perché noi vogliamo migliorare la situazione e visto che è all'ordine del giorno sempre un evento catastrofico, spendendo meno di quanto si potrebbe spendere con le opere grigie, forse noi possiamo dare un vero contributo. L'altra cosa è che tutto quello che abbiamo detto era fatto con gli stivali e andando in campo, come molti hanno detto e ribadito e fatto vedere. Noi ci dobbiamo presentare anche non come quelli che fanno teorie, tanto meno solo ricerca scientifica, ma anche progetti e soprattutto opere, questo secondo me è molto importante come messaggio all'esterno. Speriamo poi di avere più soci, io auspico anche una intesa formale fra Cirfe e Aipin e comunque gente giovane che si aggrega. Bene, vi ringrazio tutti. Bene, allora possiamo chiudere questa bellissima giornata, io ringrazio tutti, ringrazio anche il mio invitato a questa cosa e poi troveremo tutte le registrazioni e il materiale, le slide che verranno messe a disposizione. Grazie a tutti e buon pranzo a questo punto. Grazie Andrea. Ciao. Ciao, ciao. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Arrivederci. Complimenti a tutti. Arrivederci, grazie!